L'approvazione del conto consuntivo sembrava ormai certa. La Giunta infatti si è riunita nella tarda mattinata di oggi per adempiere al sollecito del commissario ad acta Antonio Garofalo che appena pochi giorni fa per la seconda volta aveva preannunciato il suo intervento sostitutivo nel caso in cui l'amministrazione non fosse riuscita, neanche questa volta, ad approvare lo strumento finanziario. Si è appreso però, a riunione di Giunta ancora in corso, di ulteriori complicazioni che starebbero ancora una volta pregiudicando l'ok definitivo al rendiconto 2015 prima del vaglio del collegio dei revisori dei conti. Come dicevamo la riunione è ancora in corso e non è certo che il consuntivo verrà approvato alla fine di questa seduta o se invece si renderà necessario un'ulteriore verifica contabile considerato che domani scadono i termini fissati dal commissario e se nonostante i tempi stretti persistono le condizioni per un'ulteriore dilatazione dei tempi. Il conto consuntivo 2015 si è trasformato in una storia senza fine. Già lo scorso 7 dicembre il commissario aveva assegnato alla Giunta 10 giorni di tempo per il completamento dell'iter procedurale. In quell'occasione l'amministrazione aveva chiesto una mini proroga lamentando una serie di problemi. L'assessore Vitale poco prima di Natale sembrava fiducioso dichiarando che entro una settimana la Giunta avrebbe approvato lo strumento finanziario. In realtà da quel giorno sono trascorsi 4 mesi. Da qui il nuovo monito del commissario ad acta. Dopo l'approvazione in Giunta il bilancio seguirà un percorso obbligatorio ovvero l'esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti per poi approdare in Consiglio Comunale. Dall'approvazione definitiva, ricordiamo, dipendono circa 6 milioni e 300 mila euro di trasferimenti statali che dovrebbero entrare nelle casse dell'ente.